Raga non ci potete credere, non crederete mai a quello che è successo, sono riuscito a sbloccare quella box gratis senza giocare, guardate, guardate non ho fatto nessun trofeo, non ho fatto nulla di nulla, se andiamo nel registro delle mischie è vuoto, completamente vuoto, se andiamo anche sui brawler non ho veramente nessuna partita giocata, eppure ho quella box gratis, come avrò mai fatto a sbloccare quella box gratis? Ah, posso comunque ritirare i gettoncini gratis da raffagemme, anche se non ho sbloccato le altre modalità, a raffagemme c'è e quindi ogni giorno prendo i gettoni da lì, senza giocare, ah, ok, ok ragazzi volevo trollarvi un po' perché molti di voi mi stanno rompendo le scatole negli ultimi video dicendomi Gigi come fai a guadagnare i gettoni se non stai giocando? Raga, cioè, si possono guadagnare box gratis senza giocare se ci pensate bene, ogni giorno potete riscuotere i gettoni gratis di ogni modalità, di ogni nuovo evento, a me ogni volta che cambia la mappa appunto da i 10 gettoni gratis, come li da tutti, anche su un account livello 1 pensate danno i 10 gettoni gratis, ne prendo 10 al giorno, quindi praticamente io ogni 10 giorni apro una boxettina gratis, però lo faccio. E niente, niente, volevo fare questa trollata, comunque, 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 quest'oggi non siamo qui per aprire solamente questa box gratis e solo per questa trollata, quest'oggi siamo qui per andare a shoppare un po' di megacasse, perché sempre negli ultimi video vi sono andato a far vedere che ho shoppato tutte quelle gemme, direi che è arrivato il momento di utilizzarle, anche perché abbiamo un bel po' di oro, con appunto le megacasse andremo a fare ancora più oro, ma soprattutto inizieremo a prendere parecchi punti energia per i vari brawler, perché comunque, anche se li abbiamo trovati tutti, come vi ho fatto vedere sempre in uno degli ultimi video, abbiamo pochi punti energia. Ragazzi, abbiamo veramente pochi punti energia per ogni brawler, quindi è arrivato il momento di iniziare a shoppare un po' più seriamente. Quindi, partiamo con la boxettina gratis, con Stecca e Mortis, tra l'altro 10 e 10, che per essere una boxettina gratis non sono pochi, per niente, cioè 10 punti energia di un brawler e 10 punti energia di un altro brawler in una cassettina gratis non sono pochi, ma adesso facciamo sul serio andando ad aprire megacasse su megacasse. Non possiamo trovare nuovi brawler, perché appunto li abbiamo sbloccati tutti, quei brawler che ci mancano sono tutti per appunto il cammino dei trofei e a breve vi annuncerò delle serie che voglio fare per appunto iniziare a fare, iniziare a sbloccare quei brawler anche con questo account. Quindi, ragà, io vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace per supportare questa serie. Arriviamo almeno a 10.000 like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se ancora non l'aveste fatta appunto per non perdervi i prossimi episodi e vediamo un po' quali brawler andiamo a trovare. Comunque, come vedete, ad esempio, anche di Eugenio ne ho pochissimi. Cioè, ragà, ci sono dei brawler di cui veramente ho pochi, 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 pochi punti energia. E questo è un problema, ragà, perché comunque, come vi dicevo, voglio maxarne qualcuno prima di iniziare a fare i trofei. Sarebbe davvero una figata, ragazzi. Cioè, vi stavo anche già spoilerando in un po' di video fa l'idea di maxare più di qualche brawler e giocare con i brawler maxati a zero trofei. Sarebbe, secondo me, una figata pazzesca. Tra l'altro 6 gemme molto buone e, invece, d'altro canto, volevo provare a portare dei brawler a livello 1 su di coppe. Cioè, possiamo fare parecchie challenge con questo account, ragazzi, però di sicuro ci serve prima potenziarne qualcuno e vorrei, appunto, maxarne addirittura qualcuno con l'abilità stellare, ovviamente. Quindi ci sarà da scioppare, ragazzi. Ci sarà davvero da scioppare. Quindi, a maggior ragione, vi chiedo 10.000 like. Allora, ne stiamo trovando un bel po' di punti energia. Già ho visto pari 60-70 punti energia, quindi tanta roba. Molto importante anche ricevere le monete, quindi sto andando ad aprire queste casse anche e soprattutto per le monete. Come vedete, qualche brawler in realtà ha già importanti punti energia, perché, come abbiamo visto, Corvo è quasi a 700. Anche la stessa Penny, 420. Il pocio di prima. Anche Shelly si avvicina a 300. È il primo anche. Mentre, però, vabbè, raddoppi aggettoni inutili per questo account, però, come vi stavo dicendo, appunto, invece, tanti altri brawler sono ancora a pochissimi punti energia, purtroppo. Purtroppo, ecco, per esempio, Frank, ne stiamo continuando a trovare pochi. Ci sta facendo trovare sempre gli stessi... Ecco, Corvo, vedete? Corvo lo stiamo trovando un botto. Ecco, siamo quasi a 700 punti energia. Anche il bombardino abbiamo parecchi. Ci sta continuando a dare il primo. Sempre gli stessi. 81 Shelly, raga. Molto bene. E 3 gemmine, che con quelli di prima fanno 9 gemme. Che, ripeto, non fanno mai male. Tra l'altro, siamo quasi anche a 13.000 monete. Con queste monete che siamo andati a prendere, arriviamo a 13.000 monete. Dopo ve lo faccio vedere. Pocio si avvicina drasticamente ai 500 punti energia. Carl si avvicina ai 300 punti energia. E Barry si avvicina ai 200 punti energia. Mentre, per quanto riguarda BB, superiamo i 300. E Leon! 51 Leon. Molto bene. Molto, molto bene. Non vi nascondo che, ovviamente, raga, sarebbe il sogno riuscire a maxare qualche leggendario e fare la serie dei troll con i brawler maxati a zero coppe con i leggendari. Quello, quello, signori, sarebbe veramente un sogno. Riuscire a giocare con un Leon maxato contro la gente a zero trofei. Oh, raga, c'è il sogno di una vita, veramente. Il sogno di una vita. Ci possiamo dire. Tire da... Non ho mai... Cosa? 100 punti energia per un singolo brawler. E 11 gemme! Vabbè, allora. Allora. È vero che abbiamo trovato solo 12 Leon, 20 Shelly, 22 Frank e 25 Mortis. Però, 100 punti energia in un singolo brawler non li avevo mai visti, probabilmente. Mi sa di no, raga. Mi sa di non mi era mai capitato. Vabbè, comunque, allora. 8 card, che sono pochissimi. 14 tara, di cui ne abbiamo pochi... Raga, abbiamo pochissime tara. I mitici sono veramente quelli che stanno scarseggiando più di tutti, perché sono quelli che abbiamo sbloccato per ultimi, e quindi ne abbiamo veramente pochi. Comunque, anche altre 8 gemme. E... E dobbiamo assolutamente trovare tantissime tara, tantissimi Mortis e tantissimi Eugenio, perché ne abbiamo veramente pochi, pochi, pochi. Ecco qui di nuovo il barrel di prima. 36 pam, interessantissimi. E Eugenio, vedete, raga? Ne avevo solamente 32 dei punti energia di Eugenio. Adesso arriviamo a 71, ma sono comunque pochi. Invece di Pocho, proprio, dilaghiamo. Abbiamo altre gemme. E... Volevo vedere un attimino, però, la situazione dei leggendari. Perché? Abbiamo 380 punti energia di Leon, che non sono male. Abbiamo 635 punti per Corvo, che è tanta roba. E per Spike, mi sape, ne abbiamo pochi. Infatti, 318. Ma ripeto, che quelli messi peggio sono assolutamente i mitici. Perché Mortis già è a 142, vabbè. Mattara a 72, Eugenio addirittura a 71. Male, male, male. Mentre, 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 gli epici, ok. Bibi ne abbiamo 355. Frank ha anche solo 163. Pam, 199. E Piper, 157. Più o meno, invece, tutti gli altri brawler dovrebbero essere messi abbastanza bene. Quindi diciamo che il problema attuale sono, oltre ai leggendari, che è normale che è così, mitici ed epici. Brutta, brutta, brutta situazione. Veramente una brutta situazione. Ecco, vedete, per esempio, pure Carla già era più di 300. Steak ha già 200. 60... Ma, raga, di Beryl, ragazzi, ci stiamo riempiendo. Cioè, eravamo a pochissimi Beryl con quei 60 e qualcosa. Con i 100 di prima ci siamo riempiti veramente tantissimo. Abbiamo anche 5 gemme. Abbiamo trovato anche un sacco di Frank. Comunque, i Beryl erano 64. Quindi tanta, tanta roba. Credo che abbiamo circa altre 5-6 box megacasse da aprire. 321 monete. 3, 2, 1. 12 corvi. Spike. 27. Spike. Ok. 29. Eugenio che, ripeto, ne dobbiamo trovare parecchi perché siamo messi veramente male. 35 secca ci possono stare. E ancora 3 gemme. Stiamo trovando un bel po' di gemme. Non sono male le gemme che stiamo andando a trovare. Comunque, continuiamo. Non fermiamoci. Non perdiamoci in chiacchiere. Monete, come al solito. Solo 10 bombardini. Però bastano per arrivare a 500. 20 pocio che ce ne stiamo trovando un sacco. 24, pam. Oh, vai. Continuiamo con i mitici. Dacci altri mitici, ragazzi. Molto bene, Eugenio. Ma quanti raddoppi aggettoni abbiamo? Sono curioso. Abbiamo 2920 raddoppi aggettoni senza averli mai shoppati. Orente, sempre trovati solo nelle casse. Un botto, raga. Un botto. Calcolando che in ogni cassa ce ne stanno 2-400 e sono anche abbastanza rari da trovare. Sono un botto. Va bene. Allora, 20 pocio. 41 Carl. Molto bene. 52 BB che superiamo, quindi 400 punti energia. E di nuovo Frank. Stiamo trovando un sacco di Frank che per un punto energia non arriva a 300. Niente, l'ho chiamato. L'ho detto che erano rari da trovare. Invece, col cavolo. 200 raddoppia. Gettoni. Va bene. Allora, sono circa le ultime 3-4 casse. Siamo a 232 monete. Ah, tra l'altro, volevo vedere anche quante monete eravamo arrivati perché è un po' che non le controlliamo. Dai, coi mitici, bravo mortis. Ancora tantissimi pocio. 51 Carl e 5 gemme. Allora, quante monete siamo arrivati? 15.000 monete. Vi ricordo, raga, che io sto shoppando di continuo i punti energia nello shop. Ogni giorno entro su questo account sia per vedere se ci sono offerte per portarvi nuovi video, ma soprattutto per andare a shoppare i punti energia. Perché ovviamente, potendo solamente prendere le casse a quel punto per darmi una mano, dato che tutte quelle monete le andremo ad utilizzare solo nel momento in cui andremo a potenziare i brawler, e non è ancora arrivato il momento, ovviamente dobbiamo appunto andarceli a prendere nello shop. Quindi, allora, continuiamo. Oh, Piper, finalmente, che vi ripeto, degli epici anche ne abbiamo pochissimi. Sì, 44 shelly, 3 gemme. Ok, quante box ci sono rimaste circa? Vabbè, no, 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 in realtà ho fatto male il calcolo prima. Adesso mi sa che ce ne mancano altre 3 circa. Ok, va bene. Allora, 20 frank, 21 corvo, e ne troviamo sempre pochi, ma li troviamo di continuo, quindi stiamo salendo un sacco di corvo. Carl e Pocho, vabbè. Pocho lo troviamo spesso e in grande quantità. Quindi Pocho penso sia il primo brawler che andremo a shoppare, e andremo a potenziare di questo passo e andremo a maxare, quasi sicuramente. Ok, oh, 132 Eugenio! What? Sono contentissimo che un mitico finalmente è uscito in così grande quantità. Finalmente, raga, cioè non ne stiamo trovando di mitici, è incredibile, sono rarissimi. Cioè stiamo trovando più leggendari che mitici. Oh, di nuovo Eugenio, vai così. Corvo, ve l'ho detto, lo troviamo di continuo, ma sempre in piccola quantità. 30 PAM, 38 Mortis e 41 il primo, va bene. Supriamo i 400 punti di energia anche come il primo. Altri raddoppi agentoni. Oh, sembra che da quando l'ho detto il gioco ce lo sta facendo apposta a buttarceli lì. Possiamo aprire solamente altre due casse enormi, che io comunque andrei ad aprire senza problemi, con 113 monete, 12 Beryl, 15 Carl e, attenzione, 20 Pocho. Che ripeto, Pocho proprio... Ne stiamo trovando tantissimi di Pocho, raga, veramente. Tanti, tanti, tanti. 103 monete, 9 Frank, 10 Tara, va bene, ok. E 15 Carl e 5 gemme. Ci siamo rifatti parecchie gemme, ci siamo rifatti comunque parecchie gemme. Comunque, raga, allora, io spero che questo box opening, diciamo così, vi sia piaciuto. Io vi ricordo di raggiungere almeno 10.000 like per supportare questa serie. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi episodi. Ci ritroviamo prossimamente sempre su questo account per iniziare queste trollate o queste scalate con, appunto, i brawler a zero trofei livello 1. Vediamo fino a dove possiamo arrivare. Per me è tutto, noi ci troviamo dopo in live su Twitch, c'è il link in descrizione. A domani uno prossimo qui sul mio canale. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!